C'è differenza tra dire la verità, che è la verità per lei, e dire cattiverie? No, non sono cattiverie! Sì, sinceramente, mi sono stufata delle sue cattiverie! Questo è il mio pensiero, non è cattiveria! Mi sono stufata delle sue cattiverie! Non sono cattiverie, è il mio pensiero di Maddalena Ballerina, appunto! Va bene, io volevo dire solo quello! Sta spiegandoci che al di là di quello che è il tuo pensiero, a lei le arrivano come cattiverie, capito? Mi dispiace perché è il mio pensiero di lei ballerina, è chiaro che se non è positivo non le arriva a certo... Con dolcezza, ma è anche logico, cioè è normale! Voi ragazzi siete abituati a sentirvi dire sempre complimenti, non va bene, nella vita non è così! Assolutamente no! E tu sei sempre una lagna, stai sempre a lamentarti! Ma non mi sono mai lamentata di nessun altro compito! Ma no, è la prima volta che dici una cosa! C'è sempre una lagna! Alessandra, è la prima volta che hai detto una cosa! Maddalena! Maddalena! Avranno il diritto a questi ragazzi di rispondere oppure devono stare in silenzio? Allora... Voi? Grazie a tutti